Da oggi le persone affette da ipovedenza o non vedenti potranno leggere la storia di Castel del Monte ad Andria direttamente all'interno del maniero federiciano, grazie ad un apposito stallo interamente scritto in braille e tradotto sia in italiano che in inglese. L'idea è il completamento di un progetto immaginato e realizzato dal Rotary Club di Andria che già lo scorso anno aveva donato un modellino di Castel del Monte tattile per poter toccare con mano le forme e la bellezza del maniero federiciano. Questo è un progetto che il Club di Andria aveva iniziato già l'anno scorso è un progetto di lunga durata che prevede facilitare e rendere più fruibili i siti culturali da parte di persone con disabilità. L'anno scorso avevamo realizzato con l'impegno di Riccardo Antolini e il suo consiglio direttivo un modello in pietra di Castel del Monte che riproduce fedelmente la struttura del castello e quest'anno invece abbiamo realizzato delle targhe in braille in italiano e in inglese perché i non vedenti possono avere la descrizione generale e un po' di storia del castello e delle sue caratteristiche fondamentali. Un'azione nata da una sinergia tra enti e che arricchisce l'offerta di Castel del Monte per i turisti anche con disabilità. Una sinergia che non nasce in questi giorni, non nasce in questo anno, definiamolo scolastico, ma è nato già dallo scorso anno. Questa è un secondo step, una seconda fase di uno stesso progetto dedicato sempre alle disabilità e quindi per abbattere le barriere che non sono solo quelle architettoniche, in genere si pensa sempre alle barriere architettoniche, abbattiamo le barriere, ci sono delle leggi che ovviamente obbligano ad abbattere le barriere architettoniche, ma queste sono delle barriere sociali ancora più difficili da superare e con i sussidi e i supporti che Rotary Club per il secondo anno fornisce al castello di Castel del Monte e in questo luogo stupendo, come voi avete ovviamente il piacere di constatare personalmente, sono utili, più che utili. La giovane Martina, con sua grande sorpresa, è stata la prima a leggere direttamente dalla guida in Braille la storia di Castel del Monte, essenziale anche la collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi della provincia di Barlettande Atrani. Questo è un prosieguo già di un'azione iniziata l'anno scorso con la presentazione di un modellino in pietra e oggi con la descrizione in Braille un non vedente anche da solo può dal punto di vista tattile vedere il modellino ma soprattutto leggere, avere una leggenda della storia di Castel del Monte. Quindi va dato atto a Rotary che ha voluto con questa attività dare la possibilità ai non vedenti di una maggiore opportunità. Secondo me queste sono prove di civiltà di una comunità.